Capra! Questa lo sai che non me la ricordi Eddie? Ma qui com'è? Senti che frena! Eh sì! Avevo trovato un articolo su Freni che dice tutte cose e dice che se sono nuovi lo fa meno. Opla! Poi vanno allineati, vanno puliti, vanno spurgati, insomma un cazzo dietro l'altro. Ah bello! Quello eh! Come fare? Era un po' pericoloso. Questo? Com'è eh? Ma se uno lo passa in denne, vuol dire che si può farci. Opla! Ma... Era grosso eh? Sì è vero! Forse è quello il più grosso di tutti. Forse era quello, sai, il più grosso di tutti. Forse era un po' pericoloso. Forse era un po' pericoloso! Forse era un po' pericoloso! Sì! E non ho detto neanche opla! E' un po' pericoloso la prima volta eh! Opla! Uhuhuhu! Che fuggata! Vediamo!